Le comorbidità sono definite come disturbi clinici coesistenti che si sviluppano come conseguenza della persistente attività infiammatoria o possono essere dovute anche al trattamento farmacologico. Durante il decorso clinico della malattia i pazienti con spondiloartrite possono anche soffrire di altri disturbi clinici concomitanti o meglio di manifestazioni che sono riconducibili a meccanismi eziopatogenetici diversi da quelli della malattia reumatica sottostante. E' stata infatti descritta una maggiore prevalenza di comorbidità nei pazienti con spondiloartrite rispetto alla popolazione generale. Questo che cosa significa? Significa che questi soggetti tendono a dare incontro a una maggiore compromissione funzionale, una peggiore qualità della vita, una ridotta capacità lavorativa e un aumentato tasso di mortalità. L'osteoporosi è la comorbidità più diffusa nei pazienti con spondiloartrite ed è causata principalmente dall'infiammazione sistemica e dalla ridotta o assente mobilità a cui questi soggetti possono andare incontro. Le malattie cardiovascolari rappresentano un'altra importante comorbidità e in particolar modo essa spiegherebbe l'aumento della mortalità nei pazienti affetti da spondiloartrite rispetto alla popolazione generale. In questo caso i predittori di mortalità sono rappresentati dal sesso maschile, dall'età avanzata, da un basso livello di istruzione e dalla presenza di fattori di rischio cardiovascolare classici come ad esempio il diabete mellito, l'aumento dei livelli di colesterolo e l'ipertensione arteriosa. Per quanto riguarda le infezioni, i dati provenienti dai trial clinici mostrano una bassa incidenza di questa comorbidità sia nei pazienti sottoposti a trattamento immunosoppressivo sia nei soggetti che non assumono terapie immunomodulanti. Inoltre risulta essere trascurabile anche l'incidenza di malattie neoplastiche, ad eccezione però delle neoplasie dell'acute nei soggetti con psoriasi cutanea sottoposti a fototerapia con raggi ultravioletti. Infine la fibromialgia concomitante è un'altra importante comorbidità che merita attenzione dal momento che la sua esistenza o coesistenza con le spondi d'artriti può portare a una risposta terapeutica inadeguata o più scarsa e a un maggior numero di cambi di terapie con farmaci biotecnologici. Se prendiamo in esame l'osteoporosi, il controllo dell'infiammazione dovrebbe essere la prima opzione terapeutica nella prevenzione di questa importante comorbidità. Invece l'utilizzo dei farmaci antiriassorbitivi specifici dovrebbe essere preso in considerazione solo nei soggetti con osteoporosi grave e con la presenza di fratture prevalenti. Il trattamento con farmaci che tendono a abbassare i livelli di colesterolo nel sangue insieme ed unitamente alle modifiche dello stile di vita e ad il controllo stesso dell'attività di malattia sono assolutamente raccomandate per ridurre nel tempo il rischio di patologie cardiovascolari. Per quanto concerne le infezioni, la vaccinazione contro l'influenza stagionale, contro l'herpes zoster e contro lo pneumococco risulta essere fortemente raccomandata per ridurre il rischio infettivo nei soggetti cosfondi dell'artrite, ma in generale in tutti i pazienti con malattie reumatiche sia essi che siano sottoposti a trattamento con farmaci immunosoppressori o meno. Le raccomandazioni di screening per neoplasie nei pazienti con spondi d'artrite sono assolutamente identiche a quelle della popolazione generale, ad eccezione però del carcinoma associato alle malattie infiammatorie croniche intestinali, in particolar modo ad esempio se prendiamo in considerazione l'aretto colideucerosa e alle neoplasie dell'acute che dovrebbero essere attenzionate e valutate ad intervalli regolari. Infine l'obiettivo della gestione della fibromialgia è quello di migliorare la qualità di vita correlata a questa importante comorbidità nei pazienti affetti da spondiloartrite. Questo come si può perseguire? Attraverso un approccio multidisciplinare che combina modalità di trattamento farmacologiche a modalità di trattamento non farmacologiche. Per quanto riguarda queste ultime, l'esercizio fisico risulta fondamentale per la funzione fisica e per il benessere psicofisico del soggetto. Per i pazienti invece che presentino dolore intenso o disturbi del sonno si devono prendere in considerazione terapie farmacologiche con analgesici, miorilassanti e farmaci antidepressivi. Pertanto alla luce delle osservazioni emerse si comprende come le comorbidità richiedono una particolare attenzione da parte del reumatologo nei soggetti che ho spondiloartrite ma in generale in tutti i soggetti affetti da malattie reumatologiche. Questo al fine di garantire una gestione completa ed ottimale della malattia reumatica sottostante. Grazie per la visione!